Due anni fa eravamo qui a preparare l'Europeo e lui nonostante la malattia e il momento difficile era informissimo. E mi ricordo ancora che correvamo dopo gli allenamenti della mattina qui, veramente felice. Sono stati due anni meravigliosi e ringrazio anche il Cori, ringrazio Giovanni per aver avuto questa idea di intitolargli questo campo che è quello che l'ha visto protagonista per l'ultima volta su un campo da calcio. Quindi grazie per questo e penso che Luca farà sempre parte, sarà sempre nel nostro cuore, perché farà parte veramente di quei personaggi immortali e quindi ci ha lasciato fisicamente ma sarà sempre con noi per tutta la nostra vita.